Musica È la Facoltà di Ingegneria dell'Università Roma 3 la sede, dal 10 al 14 giugno, dell'edizione 2013 dell'UMAP, la conferenza internazionale di riferimento per tutti coloro che lavorano alla modellazione dell'utente nei sistemi interattivi, il che permette che i sistemi si adattino alle caratteristiche dello specifico utente o gruppi di utenti, personalizzando così l'interazione. Realizzata sotto gli auspici di User Modeling Inc., l'UMAP 2013 è stata organizzata dalla Facoltà di Ingegneria di Roma 3 in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro. UMAP è un acronimo che sta per User Modeling Adaptation and Personalization. È in buona sostanza il congresso di riferimento di studi, ricerche su sistemi interattivi, tipicamente sistemi software, in grado di adattarsi alle esigenze dei particolari utenti o gruppi di utenti che usano tali sistemi, personalizzando in questo modo l'interazione. Quanti e quali partecipanti di questo evento? Come è articolato? L'evento è molto articolato, c'è una main conference e vari eventi collaterali, eventi satelliti, sono previsti tutorial, workshop, è previsto un doctoral consortium dedicato a studenti di dottorato, a studenti di PHD, sessioni di poster, di demo, quindi ci sono sicuramente molti eventi all'interno del congresso. Tra workshop e tutorial anche gli speech di illustri relatori, tra cui Andrej Broder di Google. L'UMAP si conferma appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del settore. A quanto monta più o meno l'affluenza? Beh, non possiamo ancora valutarlo perché non abbiamo ancora i dati relativi alle on-site registration. Attualmente dovremmo stare intorno alle 200 persone, che è il numero fisiologico di questa serie di congressi. Grazie. 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 Grazie.